male dove mi hai portato ma come dove ti ho portato in piemonte tra langhe e monferrato per la nostra vacanza tutta italiana finalmente dopo tanto raccontare riusciamo a visitare questi territori dove nascono gli spumanti più amati d'italia l'asti spumante e il moscato d'asti di ocg ha però è ora di preciso dove siamo siamo ad asti nella sede del consorzio dell'asti di ocg il punto di partenza ideale per scoprire tutte le meraviglie di questo territorio allora partiamo sali a bordo andiamo